Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami Siamo con Carlo Piccia, il regista della commedia che domani sera andrà in scena al Teatro Traetta, Bitonto in amore Sì, l'hai studiata tu questa... Sì, l'ho studiata io, l'ho scritta io, in virtù diciamo, è un inno all'amore diciamo perché nel 1700 era l'unico valore sul quale si poteva credere veramente tra battaglie, guerre, corruzione, matrimoni combinati la gente voleva un punto di riferimento e leggendo la storia tutti trovavano sollievo nell'amore quello puro, l'amore tra l'uomo e la donna, l'amore per il lavoro che si svolgeva trovavano rifugio dappertutto, l'importante è che c'era come centro diciamo di vita il valore dell'amore Per cui il punto di riferimento di questa commedia musicale, mi hai detto prima, è l'amore L'amore, sì, come il titolo anche racconta Certo, ci spieghi un po' come avviene tutta la storia senza logicamente dire il finale Sì, è un intreccio della società bitontina appunto nei giorni prima della battaglia come sappiamo Bitonto e i bitontini più che Bitonto hanno vissuto questa guerra da spettatori tra due popoli che hanno usato la nostra città Bitonto come teatro di guerra e quindi io ho voluto narrare più che la guerra in sé per sé ho voluto narrare in questo spettacolo proprio come i bitontini vivevano questa situazione della guerra e quindi l'intreccio delle tre popolazioni dell'epoca ovvero popolani, borghesi e nobili in questa storia che fa da cornice appunto a una storia d'amore Tu fai parte della commedia o sei solo il regista? No, io faccio anche parte della commedia sono un nobile, il cattivo diciamo della situazione E poi alla fine, il tuo personaggio? Alla fine il mio personaggio... Vabbè non si dice dai, era una domanda trabocchetta Infatti te lo stavo dicendo Era una domanda trabocchetta Senti, tu fai parte della compagnia come tutti gli altri amici per l'Acripapelle? Sì, io sono il presidente della compagnia, dell'associazione culturale per essere chiaro e sono anche il regista di questo spettacolo e mi cimento anche come attore perché a me piace stare anche sul palco e questo non lo nego Certo, e voi fate parte di tutti i gruppi che comunque compongono il corteo storico del 2 giugno? Sì, abbiamo avuto mandato dall'assessore e dalla professoressa Tota in qualità di presidente dell'Accademia della Battaglia di rivestire appunto questo impiego in queste quattro giornate che ha organizzato l'Accademia della Battaglia e quindi saremo presenti qui domani con lo spettacolo nostro il primo giugno nel presidio dei palazzi noi rappresenteremo personalmente la famiglia Rogadeo nel palazzo Rogadeo dove praticamente metteremo in scena un piccolo stralcio della vita della famiglia Rogadeo dell'epoca Per cui domani sera cercheremo di innamorarci sia dal punto di vista proletario che dal punto di vista nobiliare E anche fisico E anche fisico Grazie Carlo Pice Grazie a voi e buon proseguimento Grazie a voi